È bello inaugurare la Sittimana del Patrimonio con questa mostra ai Vortici del Grano che racconta di una ricerca archivistica molto importante e di alcuni studi fotografici di Parma su cui secondo me è veramente decisivo riportare la nostra attenzione. C'è la storia della nostra città, ci sembra così vicina anche se non l'abbiamo vissuta e ci parla di segni che in qualche modo hanno ancora una loro forte contemporaneità. Il titolo Abitare il Tempo ci abbiamo pensato molto, naturalmente riguarda questa enorme riflessione che ci sta guidando da più di un anno sui tempi della città, qui li vedete perfettamente espressi in queste fotografie. Insomma cominciamo a rivivere il nostro patrimonio oggi, poi ci aspetta una settimana intensissima, farlo con questa mostra credo sia il passo migliore.